Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo video sulle Bad Wars con le armi Sono in compagnia di Tiar e me Hola Hola Tanno cosa hai appena lanciato su di me Hola Nulla Niente Ah perché non esploso? Ma l'hai droppato addosso Come funziona? Eh, devi lanciarle con destro No, quanti ne hai lanciati? Sarebbe esserlo un po' di me Questa cosa Oh no Oh no Ok, detto ciò ragazzi Abbiamo una nuova mappa Lasciate un like E andiamo Se anche tu ami le OHC Allora non schippare questo pezzo Perché ti sto per dire che questa sera alle 20.30 In live Canale In descrizione Ci sarà la seconda UbriHC Io insieme a Dani e Tiar Ci sfideremo in questa modalità ultra hardcore Dove tutto sarà complicato Da i sorsi di Arrib Che dovremmo bere Allo scoccare di alcuni eventi Tipo quando si prende danno Uno di noi schiatta Quindi UbriHC numero 2 Stasera alle 20.30 in live Vi aspetto Ciao Eccoci nella mappa Avete visto che bravo è stato Tano A fare questa mappa Che in realtà Ha palesemente grabbato Esatto L'adruncolo che non sei altro Hanno delle belle mappe Non è che sei in un negozio E dici Ah va che bella questa Questa collana Non è che te la rubia Ma non c'è mica il copyright sulle mappe Non c'è il copyright sulle mappe Fa niente Valla a dire Cristoforo Colombo Se non aveva il copyright sulla mappa Cristoforo Colombo non aveva le mappe Cioè non le faceva Ma neanche lui faceva le mappe Senti Tiar Vuoi far parte del video? Sì Ok Ok D'ora in poi ti chiamo Andrea Oh no Non mi chiamare Andrea Che mi dà fastidio Oh no Nessuno mi chiama Andrea Neanche mia mamma mi chiama Andrea Cioè tranquillo Va tutto bene Mia mamma mi chiama o Tiar O scarto umano Allora intanto vedo Luca Che sta andando verso il ferro E Sato Che sta venendo al centro Oh cazzo L'ha detto Però perché Ho già spazzolato Il diminutivo Cosa? Non puoi stare il diminutivo No No Non mi sparare Non ti ho già fatto niente Non mi sparare Perché c'è un arboscello Che mi impedisce di buildare In questo punto Ma dai Tano No Emerald Per favore Ma cosa vuoi da me? Fuori dalla mia paluda Ma non è tua Oh Ma hai droppato l'oro Eh sì perché si droppano le cose Un po' in questa mappa Perché droppiamo le cose Non dovrebbe essere così Tano Vabbè grazie per i tuoi dieci di oro Eh lo so Cosa vuol dire La tua discolpa Tano Tano È soleggiato Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Non vuol dire assolutamente niente Questa cosa Questo lo dici te Vabbè Allora Io Tutto ciò Vado avanti Per la mia strada Non guardo in faccia Nessuno Perché non sanno Che cosa ho passato Ma porcoli No 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 Tiar Basta Tiar Il lag Basta Lo sai che sono sensibile Agli insulti io Giusto Giusto Anch'io sai Io sono sensibile e basta Fai ridere Tano sei proprio ritardato Tano lo sai Tano sei proprio un ritardo Tano Tano è proprio Era un uomo che stavano guardando Tano si è messo a sparare L'emeraldi Sono passato dietro E sono andato rompendo il letto Guarda che sta rompendo il letto Ora però Hai fatto benissimo Povero Dai Tirless Io sono stato gentilissimo con te Anch'io Non è vero Non è vero Hai fatto bene Ma Buon Natale Figli di zonca Ma Vabbè Cosa Sono confuso per sei motivi diversi Cosa sta succedendo Non parlo più con nessuno Come ne devi avere Sappi che Tra la base E l'iron Hai tutto ciò Che ti può servire Per vincere la parte Mi ha visto No No Ho buone intenzioni Ho buone intenzioni Cioè scusa Ti stavo per dire Guarda ti lascio andare via E invece no E no E tu Io cerchavo di aggirarti Insomma Di fare cose Guarda ma Cioè secondo me Se ci pensi ci sta Che due non abbiano il letto Gli altri due Lo hanno e lo mantengono Certo No ok Io sono Sono di questo avviso comunque Quindi secondo me Cioè Ci sta che io abbia il letto Anche se Se sono un po' Diciamo Senza armi Ti ovvio Ovvio Secondo me Possiamo anche Avere un accordo Ok Dove Insomma tu non mi fai del male Ecco Va bene Non sono d'accordo con i vostri accordi Senti non ho parlato con te Ti ho però Che cosa vuoi Tu scusa Andre Andre Simone e Salvatore Smettetela Andre 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 Io lo dico ragazzi Io ho comprato una rear strike Prima che provo a toccarmi Mi faccio detonare In che modo non posso cattarti Ma toccarti aspetta in che senso Dome Allora Indica Nella bambola No dai Per piacere Ma perché devi essere così pessimo No Ti ho visto Cosa? Ma io non riesco a colpirti E con quell'arma lì Vole vede Bella la mia Ai Atano Quasi mi hai colpito Scusa Desert Ah ecco perché mi hai fatto male Ok Sono riuscito a Evitare L'attacco di Tano Ma sei tu che mi hai attaccavo No non è vero Tu mi stavi milacciando E mi hai attaccato Ma ne ho qualcosa al centro No E me Non c'è scritto nulla Oddio che fanno che ho fatto Sei ancora vivo? Sì No Lol Oh oh Cos'era questo? Ah ho lanciato all'ultimo L'arriere strike Come ho detto L'ho detto che mi faccia detonare Con cosa mi hai colpito? Aia Oh pazzo È potentissimo Mi hai distrutto No fermi Perché ti ho preso Quanto colpi di fila No Ok Attenzione Io sparò a Amuz Ai 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 Sparò a Amuz Di 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 Magari qualcuno Lo capisco Ragazzi ora non per dire però Un'alleanza Perché Perché non riesco Corri Corri scappaci Nemesis Via Non sono riuscito a prenderlo Ragazzi perché faccio cacari questo gioco Non è come Forcraft Oh No Corri Emerald 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 No No Signore Emerald Signore Emerald Signore Emerald Oh via 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 Questa arma fa cacare Non l'ho colpito manca mezza volta Ho perso No Eme No È un errore quello che stai facendo È un grave errore Tutti No 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 Avevo tutto l'oro Ragazzi tutti sono vivi Tutti Mi sta Camperando tantissimo Ma io non posso muovere Tu che camperi me Aglio Aglio Tu non torni in base Tano Vabbè Io continuo Mi faccio la mia vanilla sulla mia nave Ok Se lo dici te Chi è che mi spara ora? Dai Non ero io Non ero io Non ero io Non ero io Che rischio di cadere da solo? Cioè Quali problemi ho? Perché è divertente Eren Ah Ah pazzo No Raga Eme Super low Ti penso io Sparateli Aglio Chi? No No Che cosa hai lanciato? Com'è che sei? Raga Come sono morto? Ah Non lo so Dan è morto Dan è morto da su Dan è morto a caso Io gli ho sparato Ma l'ho missato Perché non ha fatto suono Ed è morto Prima che il mio colpo arrivasse Penso Penso mi si sia Rimpatato un colpo Un po' in faccia Non sto scherzando Perché avevo i blocchi davanti E stavo sparando Ma non sei un eroe Ok Eme non puoi morire Perché Eme non accetti di morire E basta Mi dispiace Non posso Ti har No Cosa? L'hai ucciso? Sì Ma mi ha shottato È al cecchino Aspetta Lui ha ucciso te Ah ok Io ho preso te in testa Più volte Dan è morto E io sì È 1v1 Vabbè Io torno in base Ho capito Beh guarda che ha soltanto una vita È lui Quindi No no ma è troppo forte Raga C'ha tutte le armi Con le infame Devo farmi altro Tanto ho preso un botto d'oro Allora Secondo la legge di Minecraft Deve funzionare questa cosa No Può non funzionare Qualsiasi cosa sia T'ho visto è comunque No perché Non pentano per dire ma È divisibilissimo Uffa Era tipo Quando nei cartoni ti nascondi dietro L'arbocellino Potevi buttarlo di sotto tantissimo No devo ricaricare il cecchino Ah Innosco No No Io non ci credo L'ha fatto davvero No È scivolato È scivolato È scivolato Tutta la partita Non ho fatto nulla È che non ho fatto nulla È scivolato È sì saltando Cazzo Raga che dire Easy win è basata la mia Imponente aura Per mettere la soggezione Ma va là Non mi fia Non mi fia